come dire, rispolveriamo un po' la memoria storica degli anni 50 però ci sono degli adattamenti anche con della musica che cercherà di far ballare tutti gli amici che sono qui e noi ce l'auguriamo, sicuramente sarà così e poi dopo ci saranno tante altre sorprese già dato uno sguardo a quello che capiterà ci saranno delle prove sì, ma oggi ci diamo lunga però lasciamo un po' sulle spine a te, grazie, grazie sì, allora, cosa importante ho bisogno di interazione massima con voi e so che siete particolarmente vigorosi facciamo una prova, ne ho tre, un grido tre, due, uno a me tra un applauso e un grido tre, due, uno questo è un grido che si può mai più raise a jam and roll and speak orchestra, thank you grazie 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 bellissimo, bravo grazie 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 grazie